I farmaci, hai scritto questo libro adesso, no? Psicopillole, ok, che tocca un tema che non so, potremmo parlarne e dovremmo parlarne tanto, no? Però iniziamo con una cosa semplice, se vogliamo. Come li usi, li usi tra virgolette ovviamente perché sei una psicoterapeuta, psicologa, nel tuo lavoro? Come li integri? Ecco, forse la parola migliore, come li integri? Allora, ci sono direi due possibilità che come terapeuta strategica mi ritrovo di fronte. La più frequente è quella di persone che arrivano avendo già una terapia farmacologica. Tu sai che nel mondo dei disturbi ansiosi, ad esempio, è estremamente facile che i pazienti abbiano addirittura dal medico di base già la tipica prescrizione antidepressivo più ansiolitico. quindi di solito arrivano, nella maggior parte dei casi, soprattutto se ne soffrono da qualche anno, già con una terapia farmacologica. Quindi chiaramente la prima cosa che si fa è dichiarare che i farmaci non si toccano, fino a quando la terapia non avrà avuto successo, quindi io faccio la mia terapia con le sedute necessarie, che sai che sono piuttosto poche quando parliamo di disturbi ansiosi. Quando abbiamo risolto che significa che la persona, avendo ancora la sua terapia farmacologica, ha rotto tutti gli evitamenti, ha recuperato la sua vita, non ha più attacchi ansiosi, è in grado di far tutto, a quel punto, o con il suo medico di riferimento, o lo psichiatra di riferimento, o se vogliono posso indicare io, qualche d'uno, chiediamo al medico competente di scalare gradatamente la terapia. Anche perché questi sono disturbi in cui non è necessario ottenerla, quindi diciamo che possono avere ogni tanto tamponato, a volte sono dati in maniera assolutamente superflua purtroppo, però una volta che il problema è risolto vengono fatti togliere. Questo direi che è la cosa in assoluto più frequente che mi capita. Quando parliamo di tutta l'area fobico-ossessiva, parliamo di disturbi alimentari, in cui i propri farmaci, ormai riprovato, non avere nemmeno alcun tipo di indicazione reale. Cosa differente è quando arrivano persone con altri tipi di disturbi. Quindi possono arrivare persone che hanno, ad esempio, diagnosticato una depressione severa o un disturbo delirante o psicotico, in cui se la diagnosi è stata ben fatta, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi, il farmaco è un presidio importante. Quindi in quel caso ovviamente si prosegue con la terapia e poi si valuterà congiuntamente con lo psichiatra se sarà possibile anche scalare farmaci o se in alcuni casi si ritiene più predente mantenere, ad esempio per gli antipsicotici, un po' di farmaco ancora per del tempo. Però diciamo che qui si scopre in divenire. Devo dirti però che questi sono veramente una minoranza, anche nei diagnosticati depressi. Purtroppo noi abbiamo una stragrande maggioranza di persone che hanno questa diagnosi di depressione maggiore per un disturbo depressivo che però può essere risolto solo con la psicoterapia. Quindi che non appartiene a quella minoranza che invece richiede una terapia di fuorporto farmacologico. Poi in realtà c'è un terzo caso. E questo è rarissimo però ogni tanto mi è capitato quando arriva una persona che ha una fase di crisi acuta, l'abbiamo definita nel libro con il mio collega lo psichiatra Alberto Caputo. Cioè una persona che magari ha vissuto un episodio ansioso così forte o per una situazione di vita, un evento traumatico che in quel momento ci si rende conto che ha proprio bisogno di un piccolo aiuto farmacologico per un breve tempo, giusto per aiutarlo a contenere fisiologicamente l'ansia perché magari sono persone che non riescono più a dormire da una settimana, due settimane. Allora siccome non esiste alcuna ideologia su questo contro i farmaci, in questo caso mi è capitato raramente ma mi è capitato, chiedo proprio al mio collega psichiatra di intervenire per un brevissimo periodo, dando un po' di sollievo fisiologico all'ansia per permettere alla persona anche di riposare, di riprendere un po' di risorse, poi dopo questo breve periodo ma che possono essere uno o due settimane per darti l'idea, quindi non è una terapia, è proprio come una sorta di tachipirina per chi ha la febbre, le persone si rasserenano un po' e mi permettono poi di intervenire. Quindi ci tengo a citare anche questo perché ti ripeto non è così frequente ma può essere un buon modo per avere una sinergia con la figura dello psichiatra. Ovviamente deve essere una persona che condivide con te una metodologia, se vuoi, un po' inusuale per quello che è la corrente psichiatrica più diffusa. È facile trovare colleghi psichiatri che, come posso dire, vedono farmaco e psicofarmacologia e psicoterapia come alleati, addirittura sanno quando è meglio togliere il farmaco piuttosto che lasciarlo andare? Allora, senti, io sono sicuramente in una posizione privilegiata perché il mio referente è proprio il mio coautore del libro, quindi è sicuramente una persona molto disponibile in questo. So che colleghi che lavorano in altre città hanno anche loro trovato referenti. dirti che è proprio la cosa più frequente che puoi trovare, purtroppo, nella esperienza che ho parlando un po' con i pazienti e quando loro mi raccontano quello che il loro psichiatra dice loro, purtroppo ancora molti psichiatri dichiarano che la psicoterapia è totalmente inutile. E te lo sto dicendo con un eufumismo, perché di solito le parole che arrivano sono molto più squalificanti. Ed è un peccato perché questo nasconde, purtroppo, una profonda ignoranza sui dati della ricerca scientifico, medico-scientifica, sull'efficacia comparata psicofarmacologia-psicoterapia. Quindi se queste persone si informassero su quello che la ricerca medica dice, quindi non quello che diciamo noi, come una sorta di visione di parte, saprebbero ad esempio che per tutta l'area fobico-ossessiva tutte le ricerche dimostrano che il presidio terapeutico principale è la psicoterapia. Alcune ricerche hanno addirittura indicato che l'aggiungere alla psicoterapia i farmaci nel caso dei disturbi ansiosi può peggiorare l'esito. Quindi anche questa idea che comunque un po' aiutano non è detto. In alcuni casi possono peggiorare. Sì, abbiamo riscontrato la stessa cosa anche io ho trovato, psichiatri con cui mi sono trovato molto bene a collaborare, altri meno. C'è da dire poi anche l'altra cosa, infatti reputo il vostro libro molto utile anche per gli psicologi perché d'altro lato ci sono alcuni colleghi psicologi che, al contrario, non hanno la percezione quando il farmaco è necessario. Senti, una cosa interessante, che dicevi, c'è quelli in fase acuta, quelli con problematiche per cui il farmaco diventerà un supporto cronico, poi dipende come. Il primo tipo, non mi ricordo se l'idea di una classificazione o un nome particolare nel libro, comunque quelli che arrivano già con… No, noi abbiamo diviso il libro in tipologie quando il farmaco è il presidio principale, quando può essere di aiuto, quando invece assolutamente di limite alla terapia, in modo tale che poi le persone possono ritrovare il loro tipo di problema o disturbo classificato. Ma direi che la grande area della maggior parte delle richieste che arrivano a uno psicoterapeuta, quindi diciamo disturbi ansiosi, ossessivi, disturbi del comportamento alimentare e anche depressioni lieve o medie, appartengono tutti alla categoria in cui il farmaco o può essere utile per un periodo o è addirittura dannoso perché crea quello che abbiamo chiamato l'effetto stampello. Sì. Ci sono due cose, infatti ecco, che ti volevo chiedere una, mi ricorrego subito a questa. Arriva la persona che sta già prendendo i farmaci, tu dicevi giustamente arriviamo fino alla conclusione della parte più di psicoterapia e iniziamo lo scalaggio. C'è il rischio che la persona, come dire, che la psicoterapia si blocchi a un certo punto perché c'è una stampella e la persona non va oltre perché questa stampella le impedisce di fare questa cosa. Allora sai, lo scalaggio dei farmaci è un fenomeno delicato perché non appartiene solo alla dimensione della biochimica, per cui certi farmaci si potrebbero scalare anche con una relativa rapidità. Ma la resistenza appartiene alla dinamica emozionale. L'idea, come stai dicendo tu, che sì, ora sto bene ma sto ancora prendendo il farmaco. Cosa capiterà quando lo tolgo? Quindi la cosa carina è che più delle volte a fronte di uno psichiatra che magari suggerisce di scalare i farmaci con un ritmo che è quello adeguato da un punto di vista biochimico, con il paziente spaventato noi concordiamo di scalarlo in tempi molto più lunghi, proprio una goccia ogni dieci giorni. Cioè a volte lo scalare diventa più un rituale per il paziente di accompagnamento a scoprire che può mantenere i risultati anche senza la sostanza. Perché in quel caso se no corriamo il rischio di incorrere nel quello che è stato chiamato l'effetto nocevo. Cioè il fatto che il paziente tema una ricaduta perché toglie il farmaco può veramente produrgli una ricaduta, un ritorno da ansa, un sentirsi depresso. Quindi a volte paradossalmente lo psicoterapeuta è molto più cauto nello far scalare e richiede allo psichiatra di andare più lentamente o il paziente stesso dice ma quasi qua ti vado più lentamente proprio perché vuole gestire la resistenza sul piano più emotivo psicologico. Come agisci in queste situazioni? Come rassicuri la persona? Come la accompagni? Ma allora senti innanzitutto c'è un primo elemento fondamentale che la persona è arrivata da te avendo già quella terapia eppure stando male. Quindi tu è una persona che arriva e ha comunque i suoi attacchi di panico, non esce, non guida o ha un disturbo ossessivo compulsivo, rituali, un ipocondriaco, fissazioni. Quindi la persona arriva e con quella terapia farmacologica ha comunque un problema di solito invalidante perché quelli che non hanno niente a terapia farmacologica difficilmente chiedono un aiuto psicoterapeutico. Quindi nel momento in cui invece mantenendo invariato quello tu li guidi in un processo di risoluzione attraverso la parola, la psicoterapia, poi la parola, poi tu sai bene anche le azioni, i compiti a casa, sono loro quelli che non possono non avere evidente che la differenza non l'ha fatto al farmaco ma l'ha fatto quello che loro sono riusciti a fare. Sottolinea questa cosa. Quindi si sottolinea molto in quella che è la nostra terza fase della terapia tutto quello che le persone hanno fatto di differente e che ha permesso loro di risolvere il problema. Quindi loro arrivano che hanno già scoperto che l'ansia l'hanno superata facendo certi compiti e imparando a fare certe cose che ha fatto la differenza fra avere o non avere attacchi. Quindi se si fa bene questa parte di lavoro in cui si porta la persona ad avere anche consapevolezza su come è cambiata, le resistenze sono molto più ridotte di quanto uno possa credere. Perché se prima avevo gli stessi farmaci e stavo malissimo e ora dopo dieci sedute sto benissimo, forse allora quei farmaci non servivano. Quindi se uno fa bene questo lavoro in cui le persone comprendono cosa hanno fatto di diverso, la resistenza è veramente ridotta. C'è proprio una consapevolezza sulle risorse. Sulle risorse che hanno espresso e su come loro hanno appreso a gestire il problema. Fosse un attacco di panico, un rituale compulsivo, mangiare e vomitare, sono loro che hanno fatto scoperte tramite la psicoterapia su che cosa li incastravano il problema e su come l'hanno risolto. Se uno fa bene questo le resistenze sono ridotte al minimo. Quando ancora resistono, come ti dicevo, si gioca molto sull'allungamento dei tempi, che vuol dire che come terapeuta io continuerò a supervisionare, in questo caso lo chiamo supervisionare perché il problema è risolto nei controlli il paziente, ad esempio vedendolo dopo due mesi, poi dopo tre mesi, mantenendo un contatto con lui fino a quando non ha tolto completamente i farmaci. Quindi lo psicoterapeuta rimane il riferimento di accompagnamento, proprio perché se no la persona rischia di sentirsi abbandonata nel momento in cui ancora deve scoprire fino in fondo che quelle sostanze non servono. Ti sono capitate situazioni in cui la persona magari ti diceva non sto bene così, mi tengo il mio farmacozzo, la mia pillolozza, come ti comporti in quei casi? Mi è capitato, mi è capitato con un paio di persone che avevano avuto un disturbo ossessivo molto grave e mantenevano un po' di tratto, di bisogno di controllo anche sulla sostanza, ma io in questo caso ho detto che nessuno li avrebbe forzati e ho usato un pochino più di suggestioni positive, gli ho detto bene vedremo al prossimo controllo, chissà che in questo periodo lei stessa non senta così il desiderio di togliere un quartino dalla pastiglia che prenda, ma così magari le viene come sua idea, ma non le sto chiedendo di farlo. Quindi ho lavorato più così in maniera indiretta fino a quando sono stati loro a sentire che volevano fare questa cosa, l'hanno fatto progressivamente ma mantenendo il controllo e l'hanno fatto da soli addirittura, quindi tornati magari dicendo ho tolto un quartino e a quel punto bisogna evitare di spingere, quindi non è ha bene, allora tolga un'altra e dice ah fantastico, è com'è stato, no? E si rinforza il fatto che è stato bene lo stesso, ah chissà cosa capiterà nei prossimi mesi, magari le verrà voglia o magari dovrà tenerne tre quarti, no? No, gli orienti. Gli orienti, fino a quando puoi anche lasciare quello che definiamo l'utile resto, come diceva Paul Vazovic, cioè potrebbe anche darsi che la persona senta il bisogno di avere il suo quartino di antidepressivo, che so per uno o due anni ma sa bene chiunque che sia un quartino già da un punto di vista biochimico, stiamo parlando più di effetto placebo, no? Che non di effetto biochimico, però devo dirti che coi loro tempi, se vengono seguiti bene e consolidano i cambiamenti, i pazienti alla fine non vedono neanche l'ora di liberarsene, no? Di una schiavitù che comunque è una sorta di promemoria del fatto che c'è stato e c'è ancora un problema. Ecco, questo è fantastico perché si collega col punto successivo. Il contrario, la persona che potrebbe essere molto nell'esempio includere ma non solo persone con problematiche per le quali il farmaco diventa qualcosa che dovranno utilizzare o vita natural durante o comunque per un lungo periodo. La compliance in quel caso, come la gestisci? Allora, sai, la compliance farmacologica generalmente è più appannaggio del medico che prescrive il farmaco, no? Chiaro però che se tu stai seguendo la persona hai anche bisogno di verificare che non ci siano colpi di testa, che a volte purtroppo con queste persone ci possono essere, perché il rischio grosso è che se il farmaco di un certo tipo come l'antipsicotico ma anche l'antidepressivo viene di colpo sospeso, poi abbiano un effetto rebound che peggiora ancora di più certi malesseri. Quindi io di solito quando ho persone che sono contrarie al farmaco, perché se non lo sono non c'è il problema della compliance e invece ritengo in collaborazione con lo psichiatra che sia importante che in questo momento lo prendano, io tendo a rassicurare molto sul fatto che è un periodo in cui sarà necessario prenderlo, che niente per sempre, che se le cose migliorano ulteriormente sarà lo stesso psichiatra a decidere di scalare, ma uso molte analogie, può essere proprio l'idea del poter prendere per un periodo un antibiotico, che a volte va preso per periodi più lunghi fino a quando non è debellato veramente il problema, l'idea che una persona che so che soffre per lungo tempo di emicrania debba evitare di resistere all'idea di prendere un analgesico, quindi uso molte immagini sul fatto che ci sono tanti farmaci che noi possiamo decidere di assumere per un periodo e poi vediamo. Io personalmente evito di dare la condanna a chiunque, cioè io non ho mai detto e dubito che mai dirò a qualcuno che questo farmaco lo dovrà prendere tutta la vita, perché non ha la sfera di cristallo e per quanto una situazione possa essere grave, la possibilità che ci siano remissioni, cambiamenti io non le scudo mai e soprattutto perché anche da un punto di vista se vuoi epistemologico scientifico dichiarare che questo disturbo è incurabile di nuovo non rimanda a quelle che sono le nostre odierne conoscenze, cioè purtroppo la famigerata immagine che la depressione è come il diabete e quindi gli antidepressivi per il depresso sono come l'insulina è purtroppo una scorrettezza scientifica e anche un'affermazione eticamente discutibile, perché non è ancora stato dimostrato che esistano delle basi fisiologiche certe o addirittura genetiche come dicono che possano far dire che una depressione è come un diabete. Certo però che un paziente che si sente dire questo poi arriva con la condanna, ecco se mai il punto è come togliere una condanna a qualcuno a cui il medico ha detto il suo problema genetico se lo otterrà tutta la vita, questo è il vero problema. Mi ricordo quando feci volontariato e tirocinio insieme per quattro anni in una ASL del mia zona dove veniva questa persona che gli disse io ho una malattia nel cervello e gli chiesi chi te l'ha detto questo? Guarda il medico della stanza accanto, era un paziente andava lì da tanto e effettivamente io lì, anche per questioni ovviamente anche relazionali, io ero in un certo senso un ospito, un tirocinante, un volontario, però pensai io che posso fare con lui? Poi il gradino sopra faccio il più possibile, però combatto contro un muro che non sarò in grado almeno ora di demolire, effettivamente arriva la persona, ho detto qualche settimana fa ho visto un ragazzo che ha detto questa malattia, per fuori, non chiamarla malattia no, parlandoci e lui mi dice tu non la vuoi chiamare malattia, vabbè la chiamiamola in un altro modo, è tosta a volte scontrati, ti scontri non con una credenza, ma con una cultura sai allora una cosa che ho imparato facendo questo lavoro è che le crociate non sono mai sagge, non sono mai strategiche, proprio perché sono crociate, il che non vuol dire che con la singola persona che io ho davanti io non possa invece sconfiggere quella che è la profezia negativa che gli hanno dato, chiaro che lo fa in maniera diversa a seconda del ruolo in cui sei, dell'età che hai, dell'esperienza, di quanto ti puoi permettere anche di dire che chi gli ha detto certe cose è un incompetente, quello che dicevo all'inizio della mia professione quando era ancora giovincelle e chiaramente non potevo dichiarare di avere chissà quale esperienza è molto diverso da quello che dico ora, ora devo dirti che io molte volte mi permetto di dire che chi gliel'ha detto è un ignorante che non ha studiato e poi con persone ovviamente che sono in grado di capire un po' di argomentazioni scientifiche rispetto al loro disturbo spiego quello che abbiamo scritto nel libro, qual è la situazione della ricerca. Avete avuto problemi con il libro da parte dell'area medica o dell'area psicologica? No, guarda, anzi abbiamo avuto veramente molto molto interesse, abbiamo avuto un grande riscontro e devo dire diventava un po' difficile attaccarlo perché lì dentro è tutto puntualmente documentato quando abbiamo scritto questo libro, sapendo descrivere cose un po' scomode, ci siamo proprio focalizzati sul documentare qualunque affermazione fatta con testi di ricerche riconosciute di molti psichiatri medici citati, quindi uno può dirti non sono d'accordo ma poi ti deve anche dire in base a quali fonti, quindi non è un libro che esprime delle opinioni personali, è un libro che riorganizza quanto detto anche da altri sul delirio dell'inflazione diagnostica nelle diagnosi psichiatriche, sul fatto che ogni giorno esca un nuovo disturbo, sul fatto che le case farmaceutiche cavalchino l'onda di un ambito come quello dei disturbi psichiatrici in cui è facile creare un nuovo disturbo per poter vendere un nuovo farmaco, però tutte cose che per fortuna cominciavano già a essere dette non così chiaramente ancora nella realtà italiana, però devo dirti aver trovato qualcuno che si alzasse e dicesse no io contesto o qualche psichiatra questo libro non è nessuno ma perché di fatto ripeto siamo stati estremamente aderenti a quello che la ricerca a livello internazionale dice rispetto all'efficacia delle psicofarmaci e anche a come vengono commercializzati, come vengono proposti per i vari tipi di disturbi. Questo libro peraltro io personalmente lo vedo quasi come il secondo capitolo, non è il termine giusto, diciamo il secondo capitolo per ora, del libro precedente, il tocco e il rimedio. Il sequel, il sequel, il sequel, il sequel, bravo, bravo, esatto, il sequel, il sequel del tocco e il rimedio alla parola che in realtà come temi parla di altro perché parla dell'effetto placebo, l'effetto aspettativa, l'effetto nocebo anche calzato poi sulla pratica psicologica, psicoterapeutica e medica perché l'ha scritto, è tua sorella giusto? Sì, Simona è mia sorella ed è stato un progetto che è nato chiacchierando una sera a cena in famiglia perché lei che ha fatto a metà della sua vita da oncologa poi ha deciso di cambiare vita, diventare psicoterapeuta strategica però il primo progetto che abbiamo detto che portiamo avanti è proprio un libro dedicato alla comunicazione strategica nell'ambito medico e in particolar modo medico-paziente e a come tutti i medici potrebbero dotarsi veramente di strumenti comunicativi meravigliosi per intervenire nel loro ambito. Io l'ho letto qualche anno fa ma ci sono delle cose che mi sono rimaste, che ogni tanto mi gioco anche come se fossero conoscenze di prima mano. Bene, serve a quello, a giocarsela un po'. Tra qui c'era quel dato che, se mi ricordo di lato preciso, che in una ricerca dei medici di base in Inghilterra diceva che il tempo medio che è data di un paziente è 22 secondi, era una cosa simile. E un altro dato che vi riportate… Alla frase di apertura del paziente, sì, lo interrompono dopo 22 secondi. Ah, lo interrompono dopo 22 secondi. E un'altra ricerca, mi pare, che c'è la letta sempre lì, che citava come bastasse aumentare di 5 minuti il colloquio con il paziente, quindi il tempo dedicato al paziente per vedere degli effetti terapeutici. Anche, o forse era per ridurre… no, questa è un'altra cosa ancora… Era sull'empatia. Sull'empatia. Sì, guarda, allora, è veramente interessante perché noi siamo partiti dalla premessa che ormai nel mondo medico questa, se vuoi, deriva tecnologica, deriva positiva perché ha permesso di sviluppare tutta una serie di avanzamenti, è arrivata un po' a scapito della dimensione relazionale. Ma quello che ci premeva sottolineare, per differenziarci anche da molti che parlano di questo, è che questa dimensione relazionale non va intesa in termini bonistici, devo essere cortese col povero paziente, che per carità, umanamente va bene, ma intesa in termini strategici. Cioè, se il medico vuol fare bene il suo lavoro, che vuol dire avere un paziente che segue le sue indicazioni, quindi il tema di prima la compliance, le segue in maniera corretta e quindi probabilmente guarisce prima, visto che la compliance è bassissima, se impara un po' di regole di comunicazione, riesce a massimizzare l'effetto del suo intervento medico. Quindi la comunicazione non è intesa come l'accessorio, per cui sì, se sono umano, piaccio di più ai pazienti, ma è uno strumento per rendere i pazienti aderenti e quindi proprio per la cura. E questo sia nei termini della comprensione, no? Il fatto, ormai è dimostrato che se il paziente non si sente ascoltato, non solo non si sente compreso e quindi tenderà a rifiutare poi le indicazioni del medico, ma facilmente alla fine della visita riaprirà il colloquio col famoso fenomeno del, a proposito, dottore, che farà perdere tempo al medico, perché il medico che per fretta è arrivato alla fine del colloquio, a quel punto dovrà per forza riaprirlo. Quindi un apparente maggior tempo da dedicare al paziente, che poi si gioca su uno o due minuti in più in incontro, che fa risparmiare tempo. L'altra cosa che invece citavi tu, questo è veramente bellissimo, hanno visto che l'effetto che il medico possa avere anche una comunicazione calda e empatica, migliora anche gli esiti negli interventi nella fase post-operatoria. L'esperimento era questo, te lo racconto brevemente. C'erano due gruppi, il famoso gruppo sperimentale di controllo. Il primo gruppo riceveva, prima di essere operato, la visita dell'anestesista, che gli diceva, lei verrà operato, vedrà che andrà tutto bene, arrivederci e grazie. Due minuti. Al secondo gruppo invece, lo stesso anestesista si sedeva a bordo letto, gli prendeva la mano, lo toccava e gli spiegava bene cosa sarebbe avvenuto, lo rassicurava sul fatto che dopo non avrebbe sentito dolore, che sarebbe andato tutto bene e poi se ne andava. La differenza era di 5 minuti fra una comunicazione e l'altra. Hanno misurato che non solo le persone che avevano ricevuto la comunicazione empatica richiedevano molti meno farmaci antidolorifici dopo l'operazione, ma venivano dimesse addirittura un giorno e mezzo prima degli altri. Quindi non è solo un potere emozionale che è medico simpatico, ma è una ricaduta anche su un decorso fisico. Quindi pensa il potere che avrebbero i medici nel migliorare il decorso anche di interventi e di altri tipi di situazioni se sapessero comunicare in maniera corretta. Che poi questo paradossalmente è spesso una cosa che ci perdiamo anche noi, no? Mi ricordo un articolo che avevo letto di Deschaser dove diceva lo psicoterapeuta lavora con il dialogo eppure è sorprendente quante poche psicoterapie prestino attenzione al dialogo insieme, non all'analisi del contenuto, ma proprio all'aspetto processuale, esatto, di forma. Ti farei un milione di altre domande, però collegandomi a questa e volendo un pochino arrivare verso la conclusione, poi forse ti chiederò qualcos'altro ancora prima. Se volessi dare, facciamo una doppia domanda, visto che abbiamo parlato di due cose in particolare. Da un lato, se volessi dare un suggerimento al giovane psicologo, quello appena abilitato, sia nell'ambito della psicofarmacologia, dei farmaci, del lavoro con i farmaci. Immagina che di fronte il giovane psicologo gli vuoi dare un esercizio di vita quotidiana, ok? Nella sua vita oppure con i suoi clienti, che lo aiuti nel lavoro, nell'interazione, l'integrazione del suo lavoro con il paziente con il psicofarmacologia. Ci so che ti credo una cosa enorme perché ci sono mille variabili, però qualcosa che può essere gli utili, anche solo leggersi un libro, il tuo libro. E dall'altra parte un suggerimento invece, dal punto di vista più dialogico, tenendo in considerazione gli effetti, gli effetti della comunicazione, che lo aiutino in questo. So che ti ho fatto una domanda enorme, però. No, ma hai chiesto una cosina quante ore avete per rimanere qui. Senti, allora, sulla prima, sarò banale, però veramente la prima risposta che mi viene da dare è che lo psicologo non può esimersi da conoscere quello che è il panorama degli psicofarmaci. Quindi deve conoscere quali sono, quali sono le categorie, conoscere almeno i nomi commerciali dei più utilizzati, deve conoscere neanche un po' di effetti collaterali, e deve conoscere in quali casi sono indicate e in quali no, ma non perché lui debba disporne, ovviamente non è il suo lavoro, ma perché lui possa aiutare la persona che ha davanti anche a volte a prendere decisioni rispetto a questo. Se lui è un referente importante, capita spesso che a me i pazienti chiedono, ma lei cosa ne pensa dottoressa, vado dallo psichiatra prendo o no i farmaci. Ovviamente uno può dare un punto di vista, ma non deve essere un punto di vista ideologico, deve essere un punto di vista basato su dei dati concreti e anche sulla situazione della persona. Quindi prima cosa studiare e informarsi, seconda cosa lasciare da parte le ideologie, perché purtroppo prima abbiamo parlato dell'ideologia se vuoi medica tradizionale, però anche nel nostro mondo a volte si assiste a un'ideologia contraria e le ideologie, come tutte le rigidità, sono pericolose. Quindi essere anche aperti al confronto e anche aperti alla collaborazione, perché ci sono situazioni in cui è fondamentale che il paziente abbia un supporto. Non so se ti è mai capitato, a me devo dire pochissime volte, ma le poche volte in cui mi è capitato di avere davanti una persona che non riusciva a dialogare con me, perché era persa in un suo mondo di tenebre nere, lì non c'era la domanda se serviranno noi farmaci. In quel caso era chiaro che la persona non era nemmeno in grado di comunicare, perché era in una profondità tale da non riuscire proprio a seguire nemmeno uno scambio. Quindi lasciamo da parte le ideologie, però stiamo attenti perché purtroppo quella che in questo momento è più imperante e più dannosa è quella che ci dice che esiste la psicopillola per ogni cosa. Ecco, questo, come dicevi tu prima, è un problema culturale ancora più prima che medico, perché siamo tutti portati a pensare che siccome dobbiamo avere la performance ideale su tutto, abbiamo bisogno di dopparci in qualche modo. I psicofarmaci sono droghe legali, ovviamente metto droghe per virgolette, però è come l'idea di devo performare di più e quindi se non ho l'erezione migliore del mondo mi prendo il Viagra, se non ho l'umore di felicità ideale forse ho bisogno di un antidepressivo. Perché ho persone che mi chiedono, siccome non si sentono felici tutti i giorni, se forse sono depresse. Stiamo arrivando all'assurdo di pensare che la condizione esistenziale normale dell'essere umano sia la felicità. Ci si è lasciati duemila anni di filosofia alle spalle senza nemmeno accorgersene, ma non solo di poesia, di malinconia creatrice. Eppure l'uomo di oggi occidentale più delle volte pensa che sa momenti di tristezza, se soffre un lutto, una perdita e sta male, è malato. Ecco, io trovo che questo sia veramente terribile. Perché secondo te, perché siamo, anche qui, domandina da 30 secondi, però perché stiamo finendo in questo, in questa mancanza di profondità che poi può sembrare strano detta da uno strategico, no? Bravo, va, io ti rispondo da strategico che la perché non è la domanda giusta da farmi, no? Questo ci riporterebbe a fare analisi. Il punto è cosa possiamo farci, no? E ripeto, lasciando da parte la rivoluzione, ci rimane la divulgazione, quindi cercare di arrivare al più possibile alle persone. Anzi, ti ringrazio molto perché in questo momento mi stai permettendo di fare questo tipo di divulgazione, anche con dei mezzi moderni, no? Che quindi ci permettono di arrivare a più persone e quindi poi farlo con le singole persone. Io ci tengo sempre molto, quando parlo con queste persone, a farli capire che la tristezza è parte fondamentale della nostra vita, non saremmo umani se non l'avessimo. Racconto spesso anche di cose personali in cui io posso aver avuto momenti di insicurezza, di tristezza, perché poi c'è questa idea, no? Che siccome tu hai una laurea, una specializzazione, sono una sorta di Wonder Woman o Superman che non hai mai problemi, io rispondo sempre che magari bastasse una laurea o una specializzazione, direi di prenderla tutti perché no, a questo punto non abbiamo più bisogno di niente. Ecco, no, essere equilibrati non vuol dire essere apatici o vivere nel principio del piacere continuamente, essere equilibrati anzi vuol dire sapersi muovere in un mondo emotivo variegato in cui la paura, la rabbia e la tristezza entrano e devono entrare e saper rimanere in equilibrio sulla corta tesa. E se dobbiamo chiudere con qualcosa rispetto alla comunicazione, un suggerimento per lo psicologo per non trascurare un aspetto che è quello con cui noi lavoriamo, su cosa rientresti la sua attenzione? Allora, su quello che diceva Senaka, che abbiamo due orecchie e una bocca perché dovremmo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Fantastico, grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie.